Musica Benvenuti ragazzi, ben ritornati da BostroJoker Siamo tornati signori, finalmente Anzi siamo arrivati finalmente in palestra dopo tanto tempo Mi avete chiesto in tantissimo questi video Oggi sono qua con il mio grandissimo amico Lorenzo E con Valentina Cosa facciamo oggi ragazzi? Come ben sapete già vi ho parlato, vi ho accennato un pochino di questa cosa Io già mi venivo ad allenare qua allo Sport City Tanto ringrazio di averci fornito la struttura E praticamente Lorenzo sta qua ormai da tantissimi anni che si allena Io mentre facevo i miei esercizi Notavo e comunque mi allenavo ma in maniera non corretta Quindi io non essendo seguito da un personal Comunque non essendo seguito da persone addette a questo mestiere Facevo gli allenamenti fatti male E andavo a rovinare diciamo il mio corpo E andavo a rovinare diciamo il mio corpo E andavo a rovinare diciamo il mio corpo Esatto Infatti è successo che mi sono fatto male Vi ricordo che mi sono fatto male Mi sono fatto male e mi sono fatto male E non mi sono avuto a allenare un po' di tempo Lorenzo così ci siamo conosciuti un po' di anni fa E mi hanno lanciato questa sfida E io ho accettato perché comunque ho bisogno sì di rimagrire Ma ho bisogno anche di nel stesso percorso Diciamo di mettere una massa muscolare Quindi di formare il mio corpo E non è la cosa principale Tipo principale Esatto Tipo principale Quindi mi ha lanciato questa sfida Mi ha detto guarda ti alleno io Mi dai retta e vedrai che otterrà i risultati La stessa cosa sta facendo anche con Valentina Abbiamo accettato questa sfida E quindi vediamo un pochettino come andrà Perché vediamo un po' di tempo Io sono molto fiducioso perché Ovviamente lo vedete comunque non c'ho niente da aggiungere E quindi sono contentissimo di fare questo percorso insieme a Lorenzo Io vi lascio anche il suo Instagram in descrizione Vi preoccupando seguitelo ragazzi Aiutiamo la crescita perché tanta roba merita Oggi che facciamo? Oggi ci andiamo a allenare Allora premetto su due una cosa raga Non prendete questo video per esempio Perché voi venite in palestra Fatevi sempre seguire qualcuno Comunque chiedetevi sempre consigli Perché Lorenzo mi sta facendo diciamo Un allenamento rispettivo al mio corpo E la stessa cosa sta facendo con Valentina Quindi abbiamo già allenamenti differenti Quindi non prendete questo video come sempre Mi raccomando perché è molto molto importante Perché non è che se io vado ad alzare Se lui alza 50 kg lo posso fare anch'io No perché anche perché in questo video vedrete Quello che può succedere Perché anche con pesi di piccolo calico Si può ottenere un risultato spaventoso E ve lo posso dire perché lo sto provando Tue mie pelle E di educare il corpo Esatto Per i movimenti in maniera corretta Poi pian piano Pian piano il tempo andrà Forse a aumentare il peso Non lo so Quindi raga mi raccomando Tanti pollici in su se potete altri video Ovviamente qui in palestra con Valentina Mi raccomando Noi iniziamo con questa sfida Quindi oggi è il primo giorno di palestra Diciamo ufficiale E' che noi già sono 3-4 volte Ci alleniamo per fare un pre-allenamento Ci stiamo scaldando Abbiamo approcciato un po' di esercizi di base Per vedere un pochettino Noi ci vediamo Principalmente quello che sarà Esatto E vi posso dire che comunque In questi 4-5 allenamenti che abbiamo fatto insieme Io ne vedo più Già risultati ne ho avuto Perché non so Le liquidi ne abbiamo vede Liquidi o no Però E lei Anche perché si dice Non volevo essere troppo complimentoso No a lui non ti dà soddisfazione neanche Allora tu già lo vedo in palestra E gli faccio Mister Ma ci sto facendo tanti sai che dice Ma non mi vedi un po' No la Ma le troppe gratificazioni Poi Esatto Potendo E allora invece Ti sento il giudito per la mia scuola E quindi ti stracella Come si dice Aroma Te rompe Quindi raga noi iniziamo Siamo pronti Ho accettato la sfida Quindi dobbiamo fare bella figura ragazzi Perché se no qua Sono un po' Sono un po' Perché tanto io vinco in ogni caso Esatto Noi vinci Quello che vengono Quindi o se diamo da qua O se diamo da qua Stammoli giusto Dai Possiamo iniziare col bucino Eh Promesso 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 Tu giri Tu schifo No Vero Eh Non è stata una scatata Che è un'esca Trae una coppia a poco Ciao Vai Due braccia Due diritti Stiglio Quarto I manubili Le slide Corriere Via 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 Sì Guarda questo Guarda quanto viene In avanti In avanti In avanti Questa quindici Trecento Chini 24 Stai la prima Quattro Questi Mi fai in altre quindici con la stessa modalità Non è come discletti fuori Alla Qua Con discletti Via Fuori Ma Un po' I Bi Ti Ti Bi Bi Va Al final, un po' io, ove? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti